Buongiorno a tutti, Daniele Fogli, Emozioni Video Fotografiche, benvenuti in questo nuovo video della serie Facciamo Video Migliori con i nostri telefoni. Altra cosa che facciamo tutti è lo zoom con i telefoni. Mettiamo le due dita sullo schermo, allarghiamo e vediamo che l'immagine si allarga. Una cosa fondamentale che vi dico che dovete tenere presente è andate a vedere sulle istruzioni del vostro telefono, sul manuale, quello che volete, è una cosa abbastanza veloce perché se andate a vedere solo questo non c'è problema. Che tipo di zoom ottico ha il vostro telefono? Questo perché se noi rispettiamo l'ingrandimento dello zoom ottico la qualità dell'immagine rimarrà invariata. Vi faccio un esempio. Il mio telefono ha uno zoom ottico di 2x. Questo vuol dire che dall'immagine iniziale standard che vedo posso ingrandire l'immagine del doppio di due volte e la qualità rimarrà invariata. Se ingrandisco di più, oltre il 2x, oltre il doppio, l'immagine verrà elaborata elettronicamente e perderà di qualità. Tenete presente questa cosa fondamentale. Allarghiamo, sappiamo che fino ad un certo limite l'immagine rimane buona, oltre un certo limite perderà drasticamente di qualità e quando l'andremo a rivedere sarà un po' schifosa. Se per noi va bene lo stesso, non è un problema, ma dal mio punto di vista è bene tenere presente questa cosa. zoom ottico 5x, va bene, facciamo un x5. La nostra videocamera è otticamente preparata per fare questo movimento, per darci un x5. e noi sappiamo che fino al x5 avremo un'immagine buona, oltre quel limite, perderà di qualità. Grazie a tutti per aver guardato, ci vediamo alla prossima puntata se volete saperne ancora una. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video.